Musica Musica Sono Maurizio e sono qua perché me l'ha detto lei, mia mamma ha detto ci stanno i Velvet e sono venuto. Musica Luigi, i Velvet, siamo alla notte bianca, sta già andando questa canzone di Elvis Presley rifatta in questa versione degli U2 che usiamo come intro dei nostri concerti, quindi ad occhio e croce adesso mancano due minuti e mezzo prima di salire. Musica Ciao sono Stefano De Magenta, un saluto a tutti quanti. Sono Sergo De Magenta, un saluto anche da parte mia. Matteo De Magenta, ciao. Noi siamo una band di Trieste, siamo abbastanza giovani, una delle prime volte che facciamo forse uno show così grosso. Musica Ah, mi si dice che sta arrivando il nostro sindaco. Non so, però non vedo, è questo il segno. E qui, lo vedo dov'è? Musica Musica Andrò un po' dei fiori, a vedere un po' di gente, per divertirci, va qualcosa diverso. Inizio a scuola avrò un po' gli ultimi attimi di libertà. Musica Un saluto ai ragazzi di Dire Giovani. Di Dire Giovani, noi siamo in Magenta anche... No, ok, no, allora rifacciamola. Rifacciamola. Musica 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 Musica